Adesso un applauso a Max, per favore! Ciao! Il comico fragile! Elisabetta, chi hai portato? Il comico fragile, Max! Ciao, benvenuto a Made in Italy! Voi via! Perché? A me mi avete detto quando la gente ride da andare via! No, no! Sei un attore comico, per cui il pubblico deve ridere! Scusa, Max! Non c'hai i capelli! No, no! Vabbè, calma! Vieni qua! Stai calmo, rilassa! Ma stavo nell'ansia! Calma, ti devi esibire, cosa vuoi fare? No, partiamo con un'ibitazione! Facciamo un omaggio il Varietà, Mike, buongiorno! E' facile! Buongiorno? L'è morto! Eh, appunto, è un omaggio! E che fai, morticino? No! Vabbè, un omaggio a un grande artista che non c'è più! Esatto! Vabbè! Non ce l'hai i capelli? No! Ma che ti sei accorto adesso che non ce l'hai? Dai! Mike, buongiorno! Mike, buongiorno! Allegria! Eh, beh, mamma mia! Eh! No! No! Dai, fai magari un monologo! Fai un monologo! Un monologo! Monologo! Vai, vai! Allora, c'è Pierino! Eh, no! Eh, no! Calma! Ascolta! Non è una cazziata! Ti sto dicendo che il monologo non può essere Pierino, una barzelletta! Pierino no! No! Vuoi via? No! Vieni qua! Adesso mi ci metto qua! Allora c'è! Pierino no! Eh! Io? È io! Non è che cambi il soggetto! C'è te! Che in casa, dentro al frigorifero, ho i topi alieni! Perché? Perché mi fanno i cerchi nel grana! Mamma mia! No, vieni qui! Scusate! Ma sta andando via! Ma perché va via come Bruce Banner alla fine di Hulk? Sembra Hulk, è vero! Vabbè! È andato via così! Che tristezza! Mamma mia! Poverita! Vabbè! Vabbè!